Mancato pagamento del contributo per l'acquisto dei libri di testo interviene il rappresentante di sinistra italiana Vito D'Antonio il quale sottolinea come il mancato pagamento da parte del comune di Modica del contributo a favore di centinaia di famiglie modicane per l'acquisto dei libri di testo per gli anni scolastici 2019-20, 2021-21, 2021-22 e 2022-23 è un fatto grave che non può essere accettato. Per ben quattro anni il comune ha regolarmente ricevuto dalla regione le somme occorrenti al pagamento del contributo sotto forma di somme vincolate e non utilizzabili per altri fini. Sono stati stilati gli elenchi degli aventi diritto ma non si è proceduto al pagamento. Ben 492.395,38 euro attaccata Antona rappresentano le somme che andavano erogate alle famiglie che hanno sostenuto il costo di libri e che hanno attesi in questi quattro anni. È possibile che in tutto questo tempo somme destinate al pagamento del rimborso dei libri di testo alle famiglie sono state utilizzate per fronteggiare altre spese? E se è così, perché in quattro anni non si è trovato il tempo di ripristinare le somme per procedere al pagamento del dovuto a favore delle famiglie modicane in attesa dei rimborsi? Sono domande alle quali l'amministrazione comunale deve rispondere ai cittadini oltre che al consigliere Spadaro che ha presentato ben due interrogazioni prive tuttora di adeguate risposte. Intanto, conclude l'esponente di sinistra italiana, si ricostituiscono urgentemente le risorse finanziarie mancante e si provveda tempestivamente al pagamento dei contributi a favore delle famiglie.